Ciao e bentornati sul mio canale. In questo video vi parlo di un gioco che è uscito ormai qualche anno fa e che in Italia è passato completamente in sordina, per quanto io mi possa ricordare. Sto parlando di Otis. Senza aggiungere altro, andiamo a vedere il setup. La partita viene giocata su un tabellone principale, quello della colonia, e su una plancia personale, ovvero il settore di ricerca di ogni giocatore. Per quanto riguarda la plancia personale, ogni giocatore ottiene i componenti del proprio colore. Prende quindi le chiavi con il lato attivo rivolto verso l'alto e le posiziona negli appositi spazi dall'1 al 5, con la X qua sopra. Si le si mette sulle posizioni di partenza, alla destra e sotto la plancia. Si prendono poi le tessere sommozzatore, si mescolano casualmente e si posizionano qui sopra. Bisogna stare attenti che ogni sommozzatore sia con il lato non equipaggiato rivolto verso l'alto. Il lato non equipaggiato è quello con questo simbolo giallo in basso a destra. Ogni giocatore ottiene un cubo risorsa per tipo e, senza guardarle, ne posiziona uno per ogni zona di scavo, eccetto la zona di scavo numero 1. Ogni giocatore poi ottiene tre crediti e un segnalino batteria e, per quanto riguarda la plancia giocatore, abbiamo terminato. Continuiamo quindi con la colonia. Si mettono tutti i segnalini ricompensa nel sacchetto e se ne estraggono dieci da posizionare qui. Queste vengono posizionate con il lato giallo o verde rivolto verso l'alto. Si prendono poi le cinque tessere sponsor e si decide se utilizzare il lato normale o quello avanzato, ovvero quello con questo simbolo in basso a destra. Queste vengono posizionate casualmente alla sinistra del tabellone. Si prende il mazzo delle carte contratto e, dopo averlo mescolato, si posiziona in una pila di fianco al tabellone. Ne vengono quindi estratte tre e posizionate negli appositi spazi. Attenzione, in due se ne estraggono invece soltanto due e uno spazio rimarrà a vuoto per tutta la partita. Tutte le risorse, i crediti, le batterie e le chiavi neutrale X vengono posizionate a portata di mano. Vengono quindi presi tre cubi di tre colori diversi e si posizionano gli appositi spazi sul mercato e poi viene posizionata un'altra risorsa fra quelle già presenti nel mercato, in questo modo ad esempio. Ogni giocatore puoi mettere la propria pedina segnapunti sullo zero sulla tabella della classifica della colonia. Infine si posiziona il sacchetto con tutti i segnalini ricompensa a portata di mano e si sceglie che è il primo giocatore che ottiene il relativo segnalino. Ora si è pronti per cominciare. Il mondo, a causa dei continui cambiamenti climatici, è stato sommerso e l'unico modo che ha l'umanità per sopravvivere è costruire sempre più in alto le proprie città. I giocatori quindi utilizzeranno i propri sommozzatori per estrarre risorse utili per la colonia. Il primo giocatore che arriverà a 18 punti prestigio farà concludere la partita. Per poter guadagnare i punti prestigio i giocatori potranno completare i contratti, ottenere le ricompense, vendere risorse particolarmente rare al mercato. Il giocatore con più punti prestigio alla fine della partita sarà dichiarato quindi vincitore. Partendo dal primo giocatore e poi andando in senso orario, ognuno svolgerà il proprio turno. La prima cosa che il giocatore durante il proprio turno è scegliere se utilizzare una chiave numerata o una chiave X. Se il giocatore sceglie una chiave numerata, deve innanzitutto prenderla e spostarla verso destra, in modo che sia adiacente al sommozzatore di quel livello. A questo punto il turno si divide in tre fasi. Nella prima fase il giocatore beneficerà della tessera sponsor, che è sullo stesso livello della chiave che ha appena utilizzato. Vedremo poi nello specifico i bonus che danno le tessere sponsor. Dopo aver ottenuto il beneficio della tessera sponsor, il giocatore può decidere di spendere un segnalino batteria per attivare il propulsore di quel sommozzatore. Può quindi decidere di spostarlo in su o in giù di un numero di spazi pari o minore a quanto indicato di fianco al segnalino meccanico. In questo caso quindi uno spazio. Il giocatore quindi sposta anche gli altri sommozzatori in su o in giù per fare spazio a quello che si è appena mosso. Si passa perciò alla fase 2. Qui il giocatore sposterà nuovamente verso destra il segnalino chiave, andando così ad attivare l'abilità particolare del sommozzatore. In questo caso il giocatore ottiene un cubo verde, piante, che andrà a posizionare nella zona di scavo del piano in cui si trova il sommozzatore che ha appena attivato. Da notare che ogni piano ha un numero di posti finito. Se quindi non c'è più posto, non è possibile ottenere risorse in questa maniera. Si passa ora alla fase 3. Il giocatore gira il proprio segnalino chiave e lo posiziona sul tracciato hacker, nello spazio più a sinistra libero possibile. Viene da sé quindi che, man mano che i turni passano, il giocatore avrà sempre meno opzioni da poter utilizzare. Però quando i segnalini chiave utilizzati arriveranno a toccare il segnalino hacker, il giocatore li recupererà tutti e li posizionerà come abbiamo visto durante il setup. A questo punto il giocatore deve far risalire in superficie il sommozzatore appena utilizzato. Prende la tessera relativa, sposta di conseguenza tutti gli altri sommozzatori e mette in cima quello appena utilizzato. Se il giocatore possiede dei segnalini batteria, può giocarne uno per attivare la riserva di ossigeno di questo mozzatore, che quindi non sarà obbligato a salire in superficie. Se un giocatore, anziché utilizzare un segnalino numerato, utilizza un segnalino con la X, del proprio colore o neutrale che sia, la fase 2 e la fase 3 rimangono inalterate. Cambia leggermente la fase 1. Innanzitutto prende il segnalino chiave X che vuole utilizzare e lo posiziona su un qualsiasi piano, direttamente adiacente al suo mostratore che vuole utilizzare. A questo punto, prima di poter beneficiare del bonus dello sponsor relativo, il giocatore deve prendere la tessera sponsor presente sul livello 5, slittare tutte le altre tessere verso il basso e posizionare quindi sul livello 1 la tessera appena rimossa. Soltanto ora il giocatore potrà beneficiare del bonus relativo e proseguire il suo turno normalmente. Ed ecco qua il giocatore ha completato il turno. Nel momento in cui una delle zone di scavo contiene il tipo e la quantità di segnalini e risorsa adatti per completare dei contratti, quel giocatore può appunto decidere di completarne uno. Per completare un contratto bisogna appunto consegnare le risorse indicate qui sotto e facendo ciò si ottiene quindi il bonus indicato, in questo caso tre punti prestigio. Questo contratto comunque non può essere completato in questo caso, in quanto qui ad esempio mancherebbe un cubo nero. Cosa ben diversa invece per questo, che richiede di consegnare una risorsa per tipo, tre diverse comunque. In questo caso quindi potremo prendere queste tre risorse, rimetterle nella riserva e ottenere i punti indicati. Questo contratto inoltre conferisce a chi lo completa un segnalino batteria. Non appena si completa un contratto, si prende una nuova carta del mazzo e la si posiziona nello spazio rimasto vuoto. Quando un giocatore ha terminato le tre fasi che ho appena spiegato e eventualmente completato contratti, passa la mano al giocatore successivo. Non appena uno dei giocatori raggiunge il diciottesimo punto prestigio, si attiva alla fine della partita. Si completa il round in modo che tutti i giocatori abbiano fatto lo stesso numero di turni e chi ha più punti alla fine di quel round è decretato vincitore. In caso di parità vince il giocatore con più risorse nella propria zona di scavo. In caso di ulteriore parità la vittoria è condivisa. Vediamo ora i benefici che danno le varie tessere sponsor e le abilità dei diversi sommozzatori presenti. Quando si attiva questa tessera sponsor il giocatore prende una delle chiavi presenti sul tracciato dell'hacker e la rimette attiva nel proprio spazio. Eventuali altre chiavi presenti nel tracciato vengono fatte slittare verso sinistra. Questa tessera sponsor fornisce un segnalino batteria, mentre questa pagando i due crediti permette di migliorare il sommozzatore che è stato attivato questo turno, girandolo quindi sul lato sommozzatore equipaggiato. Questa tessera sponsor permette di eseguire due volte l'azione del sommozzatore attivato, mentre quest'ultimo conferisce un credito. Per quanto invece riguarda sommozzatori, i primi quattro sono gli esperti e quando attivati semplicemente forniscono la risorsa indicata, che va quindi piazzata nella zona di scavo attivata. Quando sono sul lato equipaggiato forniscono bonus ulteriori. Questo fornisce un segnalino X neutro, questo un segnalino batteria, questo permette di recuperare un segnalino chiave precedentemente giocato, mentre questo fornisce un credito. Grazie al commerciante è possibile interagire col mercato. In base alle risorse presenti nel mercato e quelle che abbiamo disponibili nelle zone di scavo, è possibile venderne o comprarne una. Se si decide di vendere bisogna innanzitutto verificare che ci sia almeno un posto per quella merce sul mercato. Il giocatore poi, in base alla merce venduta, guadagna o i crediti o i punti prestigio indicati, in questo caso per esempio un credito. Se si riesce a vendere una merce che non è presente nel mercato, si può scegliere fra tre crediti oppure un punto. Se invece il giocatore vuole comprare, deve ovviamente pagare quanto indicato, in questo caso perciò un credito. Nel caso si voglia acquistare una risorsa presente in unica copia, è possibile soltanto pagare in crediti, non in punti prestigio. Se il commerciante è stato migliorato, si ottiene un bonus di più uno quando si compra e quando si vende. In questo caso quindi vendendo un cubo tecnologia potremo guadagnare due crediti oppure un punto, mentre acquistando questo potremo pagarne soltanto due. Quando viene attivata la spia, il giocatore può, pagando un credito, pescare quattro carte contratto dal mazzo, sceglierne una da tenere e riposizionare le altre tre sotto al mazzo dei contratti. In alternativa, sempre pagando un credito alla riserva, è possibile attivare un sommozzatore presente nello stesso livello di un giocatore alla propria sinistra o alla propria destra. Il sommozzatore in questione non è costretto a tornare in superficie e comunque il giocatore che ha attivato la spia deve eventualmente pagare eventuali costi che derivano dall'attivazione di questo sommozzatore. Attivare la spia migliorata invece non comporta alcun costo. Attivando l'ingegnere pagando un credito si può decidere di migliorare il meccanico, facendolo slittare in giù di una posizione oppure l'hacker, facendolo slittare a sinistra di una posizione. Non è possibile migliorare il meccanico e l'hacker più di tre volte durante la partita. La versione equipaggiata dell'ingegnere permette di migliorare il meccanico o l'hacker gratuitamente. Infine, quando si attiva l'esploratore, si possono pagare due crediti per guadagnare uno dei due segnalini di compensa presenti sullo stesso livello dell'esploratore. Il giocatore quindi ottiene il bonus immediato indicato e poi gira sotto sopra il segnalino. Questo viene piazzato nella zona di scavo dove è presente l'esploratore e da questo momento in poi, quando si attiva un sommozzatore e nella stessa zona di scavo è presente il segnalino che abbiamo messo, si otterrà il bonus indicato, in questo caso un punto prestigio. In questo invece due crediti. Il gioco, nonostante la tematica cerchi di nasconderlo, è un German fatto e finito. L'unico elemento aleatorio infatti lo abbiamo nella pesca delle carte e comunque ce ne sono sempre tre di scoperte disponibili, per cui anche per quanto riguarda le carte la fortuna è abbastanza mitigata. Per quanto ho potuto vedere in Otis bisogna cercare di pensare qualche turno in avanti, rendendolo qui in un gioco molto strategico, ma senza comunque trascurare la parte tattica e di opportunismo della mossa migliore del momento, perché il tabellone potrebbe cambiare da un momento all'altro a causa delle mosse degli avversari. Quest'ultimo aspetto è ovviamente molto più presente quando si gioca in tre o quattro giocatori che quando si gioca in due. I componenti sono molto ben fatti, con una nota positiva soprattutto nella plancia del giocatore che è doppia e per i disegni molto evocativi, anche se come ho detto prima la tematica è un po' un pretesto. Io come sempre vi ringrazio per avermi visto fino a qui. Se avete dubbi, domande o commenti, scrivetemi, vedrò di rispondere quanto prima. Vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao!